Allora signore e signori parliamo di come ho perso 10.000 euro con i dropshipping Ora bentornati in questo nuovo video per chi non mi conoscesse nuovo su questo canale Io sono Elvis, quasi 24 anni imprenditore, digitale, mi occupo di e-commerce, dropshipping con la mia agenzia, insomma facciamo un po' di cose Volevo andare a parlare in questo video proprio di come effettivamente ho perso 10.000 euro con il dropshipping quando avevo iniziato E che tipo di consigli anche ti posso dare per andare anche oltre perché si tratta proprio di questo Quindi ti ritroverai sicuramente magari in molti guru, in molti corsi, in molte cose varie eccetera Che ti danno sì delle informazioni, tutte queste cose qua anche teoriche Perché il problema è che si limitano sempre appunto alla teoria, non sai bene come applicare le cose, non sai bene che tipo di strategia, non sai bene che tipo di prodotto Quindi fai una serie di errori che non capisci nemmeno di aver fatto, questo è stato proprio il caso mio perché insomma iniziando più o meno 5 anni fa Tante cose non me ne rendevo conto, c'erano anche dei corsi che erano abbastanza scadenti eccetera eccetera E ho fatto veramente un sacco di errori e quello più grande penso è proprio di aver sprecato letteralmente 10.000 euro in budget pubblicitario Quindi avevo fatto solamente Facebook Ads, quindi fare effettivamente le pubblicità su Facebook per andare comunque a prendere quello che è il traffico E comunque farlo acquistare via dicendo E all'inizio mi è successo proprio questo, cioè comunque avevo perso 10.000 euro letteralmente continuando a prendere dei prodotti che facevano schifo Che erano delle palesi cinesato, perlomeno era quello che c'era comunque nei corsi o comunque quello che vedevo proprio almeno ovunque E dico cavolo qualcosa di giusto ci sarà E avevo perso letteralmente 10.000 euro così, ok? Perché proprio non sapevo che cosa fare, non mi ero veramente formato E quello che mi ha fatto veramente cambiare, che ero arrivato comunque in una situazione del dire Cazzo adesso abbandono perché comunque mi sono rotto le palle, perché ho perso anche un sacco di soldi Perché non vedo futuro, perché queste cose qua E in realtà poi non ho abbandonato perché comunque ci ho visto una grande opportunità Ed è per quello anche che sono qua, adesso mi sono giusto trasferito qua per un mesetto a Bucharest Appunto sempre per isolamento, per lavorare, abbiamo comunque la nostra agenzia, i miei collaboratori Ci sentiamo a distanza, facciamo videochiamata, ci occupiamo anche dei nostri e-commerce Dalla gestione di e-commerce di altre persone e via dicendo testiamo e scaliamo continuamente Però non sarei arrivato comunque fino a questo punto qua Se comunque avessi mollato, se avessi detto cavolo ho perso questi soldi qua e basta Perché comunque in qualsiasi tipo di business, quindi si tratta sempre di un percorso imprenditoriale Si tratta sempre di andare ad investire una certa quantità di denaro E poi lì dipende quando ci sarà comunque il ritorno sull'investimento, quindi il cosiddetto ROI E da quel punto di vista io avevo ancora la mentalità del lavoratore Perché più o meno 5 anni fa lavoravo proprio come dipendente Facevo anche insomma da... avevo già fatto un video su questo se vuoi andare a guardatelo Però avevo ancora la mentalità del dipendente Ero sicuro che comunque ok, dico vado a testare, vado ad investire i soldi e tutte queste cose qua Solo che molte cose non funzionavano ma perché davo retta alle persone sbagliato Meglio davo retta alle persone che in realtà non facevano quello che dicevano di fare E questo è stato un po' un problema perché poi comunque quello che è cambiato veramente È stato quando mi sono approcciato a due ragazzi, a due miei mentori I miei primi due mentori poi ho avuto anche altri mentori di conseguenza Anche se sono arrivato adesso ad un certo livello dove comunque vado a scalare degli store Sia miei sia di altre persone in gestione sia di clienti Oltre le 6 cifre quindi si tratta di oltre 100.000 euro di vendite ricorrenti comunque mensili Eventualmente da far vedere anche qualche esempio di uno store che appunto è stato scalato in questo quarter 4 E per chi è dentro appunto protocollo virtuoso c'è il mio nuovo programma di formazione One on one di 6 settimane con chiamate settimane eccetera Ad esempio avevo fatto vedere questo store qua, non so se si vede che si inquadra Così, ok si vede? Ok E ad esempio sì come questo store qua comunque perché questo qua è un esempio Che avevo fatto vedere proprio dentro protocollo virtuoso Cioè il mio nuovo percorso di formazione proprio di 6 settimane pratico Dove vado praticamente a parlare con queste persone qua che si affidano a me per quanto riguarda la formazione Ma effettivamente facendo delle videochiamate, facendo comunque delle chiamate zoom A livello proprio pratico e vedere ok Elvis ho questa situazione del business manager Oppure ho questa situazione qua dentro lo store, vedo che comunque il mio costo per acquisto è troppo alto Insomma tutte queste cose qua e preferisco di gran lunga farlo Per chi mi segue da un po' sa bene che avevo comunque lanciato il mio corso completo Cioè e-commerce virtuoso che adesso comunque è chiuso Ma appunto perché ho sempre avuto una pro Anche se è il corso migliore che ci sia assolutamente in Italia e in Europa Per quanto riguarda dropshipping e-commerce e di quello ne sono sicuro Anche dai feedback quello assolutamente Però è pur sempre un qualcosa di teorico ed è quello che fa la differenza Cioè mettere nel pratico come è stato nel caso mio Avevo perso letteralmente questi 10.000 euro all'inizio Perché comunque io mi affidavo semplicemente alle cose teoriche che facevano vedere nei corsi Che tra l'altro nei corsi ti fanno vedere magari il 10% di quello che è realmente l'e-commerce O il dropshipping o le Facebook ads nel loro complesso Perché è un qualcosa sì di complesso E non imparavo veramente nulla Cioè non mi sapevo replicare Poi però quando ho avuto dei mentori che mi facevano vedere Anche degli esempi comunque di store Che mi facevano vedere dei loro case study Mi facevano vedere dei loro prodotti Quello che stavano scalando Le loro strategie Li andavo a vedere in videochiamato Comunque andavo a vedere tutto quanto nel pratico Lì comunque è cambiata letteralmente la mia situazione Ho avuto il mio primo store Tra le regolette vincente Avevo fatto circa un 4k più o meno Insomma poco niente E poi però è arrivato il primo store E prodotto vincente a 6 cifre Quindi oltre le 100.000 euro di vendite Perché ai tempi comunque vendeva ancora negli Stati Uniti E chi mi segue da un po' Sa bene che io preferisco comunque il mercato europeo Soprattutto adesso perché insomma il mercato americano è un po' troppo saturo Meglio anche tanto costoso Per quanto riguarda e-commerce e dropshipping eccetera Però la differenza è stata questa Cioè farmi seguire Avere dei mentori Che erano già arrivati Magari io avevo in mente Cavolo voglio fare questi 100.000 euro Questi 100.000 dollari di vendite Poi il profitto insomma lì bisogna andare a guardare Però io avevo già in testa Voglio arrivare a questi benedetti 100.000 dollari E poi ci sono arrivato Poi è stato un susseguirsi di store È stato un susseguirsi di Insomma tutte queste cose qua Come può essere ad esempio Questo qui che Insomma chi è dentro il protocollo virtuoso Sa bene Anche che store è Perché appunto lo faccio vedere E anche altri store di per sé come questo Sempre comunque nel mercato europeo Ed è stato poi un susseguirsi di Ok testo prodotti Magari questo prodotto non va Ne testo un altro Lo vado a scalare In contemporanea vado a scalare Anche qualcos'altro Quindi è proprio un Cominciare dal basso Andare proprio graduale Formarmi Formarmi Anche se comunque sì Ho speso Tanto informazione Decine e decine e decine Di migliaia Di euro Informazione Quindi andare in consulenza Prendere anche altri corsi I corsi insomma un po' così così Però meno male sono stati utili Anche quali a livello Base per capire più o meno Come funziona tutta questa roba qua Però Alla fine la cosa che fa di più Effettivamente avere un mentore O avere comunque qualcuno che ti guida E che è arrivato già al punto dove vuoi essere E portartici comunque a quel punto lì Ovviamente non costa poco Perché comunque È un qualcosa che assolutamente Ad esempio io Ok mi ero fatto seguire da questi mentori Però loro effettivamente facevano Avevano dei business Che gli portavano comunque delle entrate Tutte queste cose qua Quindi visto che io prendevo del loro tempo Effettivamente quel tempo lì costava Perché come sappiamo bene Il tempo è denaro E quindi Qualsiasi tipo di formazione Che richiede proprio il tempo diretto Di una persona Di un imprenditore Che comunque fa anche numeri grossi Lì comunque sicuramente non costa poco Ma È lì che veramente ti fa Tanto la differenza Perché In questo settore In questa industria La parte di formazione La parte di scaling La parte di ottimizzazione Tutti questi processi Alla fine bisogna Spendere tanto Chi ha il braccio corto Chi cerca di Chi è la tipica persona Che cerca di elemosinare qualcosa Magari di risparmiare 10 euro Vi dicendo Difficilmente arriverà a fare qualcosa Quindi bisogna rendersi conto Che uno Andare ad investire tanto nella formazione Skillarsi Diventare bravo E potersi replicare Questo è fondamentale E poi Diventare comunque indipendente Riuscire a fare veramente le cose Io comunque Anche se sono arrivato a testare Scalare Storing Dropshipping E-commerce Gestiere comunque altre cose Avere una mia gente Insomma tante cose Anche se sono arrivato a questi livelli Che insomma Sicuramente sono molto più alti Di Anche di un anno fa Per dire Ma Mi continuo lo stesso a formare Vado a formarmi Andare in consulenza Sentire Va bene ma La differenza tra teoria e pratica È veramente immensa La cosa che fa veramente la differenza È assolutamente la pratica È come ad esempio Prendere la patente Un conto è fare magari L'esame teorico Studiarsi il libro Un altro conto è Prendere il volante in mano E andare Se mi ricordo bene La prima volta che avevo guidato la macchina Dopo che avevo preso la patente Era andato in contromano Spero che magari nessun poliziotto Vada a guardare E mi dia una multa Anche se non può Però Giusto un esempio L'unica cosa Che fa veramente la differenza L'unico modo Per avere dei risultati E fare qualcosa di effettivo È solamente mettere nel pratico Perché altrimenti Non si arriva veramente Da nessuna parte Però Se io non mi fossi formato Io avrei semplicemente Sprecato 10.000 euro così Dal nulla Senza sapere nulla E dire semplicemente No dropshipping non funziona L'e-commerce non funziona E tutte queste cose qua Sono delle boia Sono delle truffe Insomma Tutte queste cose qua Abbastanza da mentalità povera Che me ne rendo conto Può essere legittimo Come pensiero Però Bisogna avere la mente Impreditoriale Bisogna effettivamente Fare qualcosa di effettivo Per andare Avanti Oltre questo Comunque Giusto Video aggiornamento Appunto Di Di farvi capire Di farti capire anche Qual è stata la mia situazione iniziale Vedrai appunto Che ho iniziato Insomma Non sono nato Assolutamente ricco Comunque Una situazione abbastanza Umile Anni fa Cinque anni fa Ovvero dicendo Quando avevo iniziato Quindi Assolutamente Nessuno mi ha regalato nulla Anche perché Non sarei qua Magari Ad esempio Il mese scorso Ero in Svizzera A Lugano Adesso sono qua A Bucharest Che sto un mesetto Poi comunque Mi andrò a spostare ancora E farò anche dei video Se eventualmente Ti interessa anche Non so Magari fare anche un tour Di questa casa O magari farti vedere Com'è vivere Magari anche a Bucharest Com'è Anche perché Io fiscalmente Sono presente Proprio in Romania Dove comunque Pago le tasse qua E via dicendo Con tanto di residenza Ma posso permettermi Lo stesso Di viaggiare Posso andare A prendere magari Non so Una casa Un appartamento Che costa anche tanto Ma perché comunque Ho dei business All'attivo Con delle entrate Ricorrenti Che mi hanno Mi permettono Comunque di fare Quello che voglio Alla fine Se no Ero ancora letteralmente A lavorare Come dipendente E stare sempre Col pensiero Del Che vita di merda O queste cose qua Comunque Farò anche un video aggiornamento Se ti piacerebbe Magari andare Ad affrontare Anche un argomento In particolare Magari sul mindset Che faccio Non so Un tour della casa O perlomeno Parlerve proprio Di livello fiscale Perché pochissimi Magari sanno Il livello fiscale Che c'è magari Ci sono magari Nei paesi Anche come magari Ungheria O magari anche Polonia O Estonia O anche Romania O via dicendo Insomma è veramente Poco trattato E potrei andare Anche a trattarlo Visto che insomma Mi sono fatto Un bel mazzo Su questo E prima comunque Di chiudere Voglio annunciare Anche il vincitore Del giveaway Dello scorso video Cioè della mia guida Dropshipping Virtuoso Starter Patch È la guida completa Per iniziare A fare dropshipping Che appunto Lo lascio qua E via dicendo Per favore scrivimi Su Instagram Così ti faccio Mandare il tutto E per vincere la mia guida Basta che appunto Metti like a questo video Mi lasci un commento Qua sotto Con l'hashtag Ecommerce E ovviamente Sei iscritto a questo canale Con la campagna Delle notifiche accese E per forza di cose Insomma andare a vedere Il successivo video Per scoprire Se hai vinto Oppure no Quindi senza andare Di lungarmi troppo Farò anche un video Eventualmente Di aggiornamento È tutto Rivalente sul pezzo Perché insomma Diciamo che è solamente L'inizio E vi farò vedere Un sacco di belle cose Qui Elvis Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao